ecco il pesce sega, incredibile ecco il pesce sega, guarda quanto è grande se non posso adesso mettermi il telefono no, non c'è più la manca ragazzi ecco altri semplari guardate, eccolo che arriva, guarda guarda eccolo qui, stiamo seguendo ecco, vedete degli esemplari molto ecco Joel, Joel fatti vedere nella vasca degli squali non si vede molto però ci siamo tutti ciao, ci siamo tutti con gli squali ciao Michele, Michele, Amore sta guardando lo squalo? ciao 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 ciao